Nessuna minaccia, nessuna diffamazione, nessuna campagna denigratoria. Partono da qui, da questi tre punti fermi già fissati dal Tribunale del Riesame, le motivazioni con cui la Cassazione ha bocciato il ricorso della Procura di Vicenza sull'interdizione nei confronti dell'ingegner Giovanni Iannacopulos per la vicenda legata alla gestione dell'Ul 7 Pedemontana da parte del direttore Carlo Bramezza. La sentenza è stata emessa il 26 di aprile ma le motivazioni sono state rese note solo nelle scorse ore e sono molto chiare sul confermare l'assenza di minacce dirette o indirette da parte dell'ingegneria Iannacopulos. La Cassazione ha fatto un lavoro eccellente perché per respingere il ricorso del Pubblico Ministero ha voluto analizzare in dettaglio tutti i messaggi che erano stati mandati in onda, tutti i servizi che erano stati diffusi e è arrivata proprio la conclusione che non esiste in alcuno di essi un contenuto diffamatorio o che non esiste in alcuno di essi un contenuto che possa suscitare e legittimare la reazione del dottor Bramezza o di chi per lui. Viene da chiedersi invece a questo punto se non ci sia stato un attacco alla libertà di pensiero e di opinione, di critica e di espressione negli ultimi mesi. In questa vicenda si assiste proprio a un attacco alla libertà di pensiero, alla libertà di espressione e francamente mi sorprende che organi di informazione che tutti i giorni fanno del diritto alla libertà di espressione, del diritto alla libertà di pensiero, un loro cavallo di battaglia perché questo è il tema con il quale si muovono gli organi di informazione tutti i giorni, cavalchi l'onda di questa vicenda come se dietro ci fossero chissà quali interessi da perseguire e chissà quali obiettivi di screditamento della posizione dell'ingegnere Janakopouls e delle sue reti, operazione che davvero mi pare criticabile. La Cassazione ribadisce quindi il carattere di interesse pubblico dei servizi trasmessi da Rete Veneta e Antena 3 proprio perché riguardano la sanità. Un tema di forte interesse sociale per l'evidente impatto si legge nelle motivazioni delle decisioni del direttore generale sulla gestione ospedaliera. La Suprema Corte si spinge anche oltre parlando del diritto di critica giornalistica esercitato senza trasmodare nella denigrazione della persona del pubblico funzionario. Una sentenza destinata a fare giurisprudenza. Io credo che il Tribunale del Riesame di Venezia abbia pubblicato una decisione con una motivazione che può passare alla storia per i contenuti molto chiari con i quali ha favorito l'esternazione di una assoluta libertà di stampa in maniera pulita, in maniera insuscettibile di condizionamenti. E la Cassazione, che è il baluardo che noi abbiamo nel nostro paese rispetto a tutta una serie di possibili interpretazioni, anche distorte, questo fa parte della vita del mondo processuale, in questa vicenda è stata altrettanto chiara. E così, ancora una volta, viene ribadito il corretto operato della redazione giornalistica di Rete Veneta. E così, ancora una volta, viene ribadito. Grazie. Grazie. Grazie.